Oh ragazzi ci li siamo Senta quello con lo stronzo che sta cercando di avere il motore di non so cosa Quindi andiamo a vedere di cosa si tratta Sono piuttosto curioso Ah è la barca Qui che c'è? No, da un bel calo di framerate Questa che è? Vai 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 Fa anche la scossa Ah un libro Leggete come sempre Oddio il mio canale sta inizionando a popolare di ragazze Deve averle tirate Tomb Raider E non è un male anzi Sam Ce l'ho fatta Eccola che arriva Orjon, Orjon ragazzi Ricorda un attore questo cutizio Non so chi però Merda Con una specie di paranco dovremmo riuscire a sollevarlo meglio Hai ragione Mi basterebbe mettere insieme qualche puleggio Forse in quel relito troverò qualcosa di utile Vado a vedere Attenta Lara Ok Ok Allora vediamo un attimo qui Ok 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 Sta cosa devo Oh il cinghialetto là in fondo Il bastardo sopravvissuto Ah giusto Sta cosa non fa Quindi Che cazzo è successo Scusa Scusa Sembrava se fossero sparati Peccato Allora devo andare dove 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 Minchia lontano Andare qui Passo di qui Dove una cosa Un paio di palle Da passare anche di qua Non ho idea di come raggiungere quel posto Ci sono troppe cose in mezzo Troppi ostacoli Vediamo allora Ah no di qui Ok Yo Buono così Un gobbiano No Si No No l'ho perso È caduta in acqua Wow Ecco chissà cosa raccoglieremo Di Che materiale potremmo raccogliere Mai da un gabbiano Il becco Le pupille Mia zia Non lo so Ah ok Ora inizio a capire come raggiungere Prendiamo la scala Se cado la colpa è di Pinolume Ok Beh a noi non ci sono nemici È un fattore positivo Washaba Siamo arrivati Favoloso Portoghese Avrà più di un secolo Questa c'è di favoloso sul fatto che stiamo per crepare Questa c'è di favoloso sul fatto che stiamo per crepare Questa c'è di favoloso sul fatto che stiamo per crepare Non so Fammi pensare La vacca è muta da ore Siamo isolati qui fratello Com'è? Adesso come cazzo facciamo? Intanto stazzesco Facciamogli fine alla conversazione Sta succedendo qualcosa La montagna si vede del fumo Sì O può essere qualsiasi cosa Ci muoviamo quando fa buio Ma Sicuro ci convenga Forse dovremmo aspettare qui fino al prossimo turno Dovremmo aspettare in eterno Qualcosa non va fratello Preparà la tua roba Si batta il tramonto Mi sa che non partite direttamente Porca troia Ce n'è un altro ma lo sistemo dopo Prima prendo sta cosa Cuccio Ha fatto in tempo dire solo merda Non ho avvisato gli altri Qui teschi No No di lì non fa No neanche di qui Di qui si Scate a parte Dovrò prendermi un pc nuovo Più presto Più presto Ops Possiamo tornare Al campo dei idioti Ma io ho solo una pistola Pensavo di averne due Tratatta 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 Armata incazzata minchia il gameplay si no no credo ci ho mancato poco qui che c'è pesce ma ok ce ne siamo liberati scatti a parte porca merda quanto scatta se la mettono in culo non me ne frega nulla grazie di tutto perlone si la ragrappa ma ti f*****a merda dai sul coraggio no perdiamo la scala accorciamo la strada si la strada della minchia accorciamo mica che strada del cazzo tari incoglionita non sa correre non so perchè non sa correre guardate shift è il tasto predefinito per le corse invece lei scivola invece di correre grazie un brodo alex ancora non si è visto aiuto 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 e whitman zona aiuto contro chi sta sparando schizzato ma secondo me non ti cattivi dai non sta sparando nessuno non c'è niente un nemico in quanti sono non so sei ferito non ho visto nessuno li avrò spaventati non sapete quanto ho corso senza la minima goccia di sudore sono più in forma di quanto pensassi li avrei portati qui da noi proprio come al palazzo cosa? non è andata così Lara mi avevano preso mentre tu cercavi Sam che storia è mai questa? opps dicevano che altrimenti avrebbero ucciso te e gli altri io ho provato ad avvisarti non mi sembra il momento sentite non so che problema abbiate a dire che vero neanche mi interessa addirittura volevo solo senti un'altra parola e giuro che ti spacco quei costosissimi identiti basta sbagliarla la negra è proprio dal gatto dovresti siamo uniti? o sarà la fine? hai ragione chiudiamo qui è molto meglio addirittura ma c'è una cagata di bisonte in testa perché non ti stai zitta dove sono quegli accrezioni? in sala macchina guardate la nigga non è uno sproveduto Lara bene vuol dire che faremo prima guardatela guardatela con i pezzi di cagalloni c'ha degli scialli stronzi in testa guardate piccoli stronzi e pensa anche di essere il capo Lara aspetta prendi quest'arco l'ho tenuto apposta per te che è questo? come l'hai costruito? sembra potente può conficcare le frecce praticamente ovunque anche nel tuo scrotto proviamo? figata però eh può conficcare le frecce praticamente ovunque ah ok ta 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 ehm Marco cos'è questo? un muro di fiamme all'impatto figo questo invece aumenta i danni vabbè non ho un cazzo quindi non è che me ne freghi molto Lara la endurance è incagliata oltre quell'arcogliere ok userei quel nuovo arco per raggiungerla vabbè forse su quelle rocce oltre il molo proviamo sperate ciao